Benissimo ragazzi, ripartiamo subito con questa nostra avventura Ok, ripartiamo subito, giochiamo Alien Isolation, perfetto Continua partita, assolutamente Continuiamo con la vasta partita E speriamo che non sia buggato il gioco Spero che non sia buggato sto gioco, se no non è ulto a me Oh eccoci qua Andiamo dalla tipa, qua ferita Quella semplirità inizia o no Poi era nerd, ma che non sia altro Nascondetevi Violazione di sicurezza individuata, il sistema di transito è interrotto per ordine di Apollo Bell'affare Io vado qua Resta con me Ripri sta cercando aiuto Questo è uno dei pezzi più affascinanti del gioco secondo me L'ospedale, il manicomio spaziale Proprio bella come ambientazione Ripassare qua No Chi ho i due tipi ambigui laggiù? Non si sa Chi sono? E subito Si dai forza Ripri Aspetta solo te dai Aspetta solo te dai Aspetta solo te dai Greco Hal Mal Certo Tiger San Cristobal Lascia perdere il portello. Gli ufficiali hanno sigillato tutto. Usa il condotto. Io controllo qua un attimo. Beh, adesso cosa si apre, quindi posso anche avanzare un po' alla volta. Questa è bella l'ambientazione, il coso spaziale, il manicomio spaziale. Ma... Però comunque se c'è qualcosa, però non c'è niente. Amen. Allora... C'è un ruttame, una singa o qualcosa? Proprio no. Per sicurezza. Vai forza. Adesso... Adesso sinistro. Sinistro. Io avanzo questa spianata al camiserio. Grazie. Allora... Dove... Facciamo una mappa. Adesso... Come siamo messi? Messi meglio decisamente. Non siamo nelle migliori notizie. Bene. Io non ho chiesto in giro. Io non ho chiesto in giro. Io non ho chiesto in giro. Sono sicuramente indifeso contro l'alien, però. Com'è possibile? Sono Gullman. Ripley. Devo trovare un medico. Sono un medico. Una mia amica ha bisogno di aiuto, di attrezzature sanitarie. Anche io. Non è rimasto niente su questo piano. Ma c'è ancora molto di sotto nell'ambulatorio dell'ospedale. Come ci arriviamo? Si. Ti sembra che io possa esserne in grado? Mi serve il tuo aiuto e a te serve il mio. Trova il codice d'accesso per l'ascensore di servizio e scenderò con te all'ospedale, ok? Codice d'accesso? Sì. Posso dirigerti da qui. Morley o Lingard potrebbero aver avuto il codice nuovo. Dovresti provare all'ufficio di Morley. Chiedete tutti i comuni grossi? Devo fare tutto io, eh. Mi raccomando. Un piccolo cieco. Mi tocca andare a sinistra qua. Oh, vabbè, le munizioni di revolver. Molto utili. Poi c'è la Bibo, c'è. Ciao, Bibo. Ciao. Una cassa acustica me la farei d'ascosta, eh. Allora, abbiamo qua. La map, le maps. Abbiamo ancora di Google Maps, c'è le maps. Ah, qua non me l'ho accorto che c'era il cestello. Perfetto. Facciamone pure un'altra cassa acustica. Mi pare l'ultima unità difesa a me che c'ho. C'è un'altra cassa. Il resto... ...mai gittà a sciamlo per te qua. ...mai gittà a sciamlo per te qua. Vai, forza, Ripley. ...mai gittà a sciamlo per te qua. Io sinceramente avanzo, eh. Fatta. Lavoro di squadra, eh. Andrà a vantaggio di entrambi. Vai avanti. L'area in cui ti trovi era ristaffata ai pazienti più instabili, quelli con... ...pro... ...la mia ad adattarsi nello spazio. Dimmi solo dove devo andare. Casi tradici. Non preoccuparti, sono andati da un pezzo. ...no, no, no, di là. ...no, no, 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 no. Io proprio qua invece, vuoi esplorare un po'. ... ... Questo posto era così promettente quando sono arrivato. È una tragedia. Uno spreco del mio talento. ... 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 Ho paura di proseguire, so quello che mi capiterà tra un po'. Andiamo qua dove porta sto posto. Ok, questa porta qua. E per la cronaca non ho nessun problema. Gorman passo e chiudo. Bene, lungo quel corridoio. Non so, ma anche se non sono tanto convinto io. E io proseguo. Grazie. Ecco qua. Ecco qua. Ah, ma è meglio, mi sa. Hai trovato il codice di accesso. Allora ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre con sé. Ok, è 1702, ma sto appuntato. Rilassati, sto solo cercando di scoprire cos'è. Tu concentrati sulla tessera d'accesso. Questa è la tessera d'accesso. 1702, benissimo. Eccolo, un organismo perfetto. Siamo a far danno in altra parte, va, è meglio. O laggiù. Questo pezzo mi ha sempre inquietato a me. Questa è la tessera d'accesso. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Perfetto. Cassa acustica. Capiti, forza. Grazie. 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 Io continuo. Grazie. 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 Morli. Morli. Grazie schifagli hanno fatto tutto. Grazie. 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 Un poco rischiato, però. grazie a tutti grazie a tutti un po' alla volta avanzo sei troppo fretta grazie a tutti 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 che grazie a tutti 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 ecco grazie a tutti 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 ciao ciao grazie a tutti 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 e adesso grazie a tutti a tutti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti niente grazie a tutti 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 e a tutti grazie a tutti se grazie a tutti e a tutti e a tutti grazie 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 a tutti e 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 tutti e a tutti e a tutti e a tutti e a tutti e tutti e a tutti e a tutti e a tutti e quindi e a tutti e a tutti e a tutti e quindi e quindi e quindi e a tutti 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 e tutti e a 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 tutti